per poter determinare la squadra che in questo gruppo 2 verrà a disputare la finale in Italia. Il Belgio ha battuto il Portogallo per 2-0, i gol sono venuti nella ripresa e il grande eroe è stato Van Moer. Eccolo realizzare il primo gol, un anziano regista 34enne ritornato in nazionale dopo molto tempo che è stato l'ispiratore della manovra di una squadra molto giovane, è l'ispiratore del gol del raddoppio di Van der Else dopo aver segnato il primo gol. Questa è un'altra ripetizione del raddoppio di Van der Else sempre sul passaggio di Van Moer che è stato il grande protagonista di questa partita. Nel Belgio non c'era il portiere Pfaff che abbiamo visto in altri euro-goal un po' in difficoltà. Comunque Belgio e Portogallo ancora...